e benvenuti in questi nuovi episodi di che sia raga ok quindi buona visione guarda quello lì come sì io sono come non siete così stupidi da attaccarmi ma purtroppo lo siete perché non avete un cervello che balle questa moto va via le moto via distruggo tutte e muori a meno male a meno che non mi stanno attaccando con le macchine aia è un po' difficile di beccarle vedi qua aia lo becco no oh ecco fatto beh c'è voluto un po' di tempo ma ce l'ho fatta e adesso ok di là o di qua che c'è qua dentro è un po' di tempo Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ecco, ci vediamo dopo! Ok... Allora, un po' più d'altro di sviluppo devo andare... E vabbè... Beccatemi questo! Ecco, guarda che voi fuori tutte le balle... Vai, vai! Come? E... Ok, sono arrivato! Beh, dai, non è male... Grazie a tutti! Ora io vi ammazzo tutti... Poi li do io! Ahah... Io vi è torno, casca il mondo, via via terra e voi tutti morri per terra! Ancora! Ancora! Adesso c'è chi ride... Fa morire! Ahah... 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 Mi è andata male 3, 2, 1 Decollo Atterraggio effettuato E adesso per voi Arriva la morte in niente Lo sai parli un po' troppo E mi è stancato Chiudi quella bocca Allora Questo Ok un po' tutti qua per favore Alboriche Tutti spappolati Questa qua Però è A un'altra per cammina E vai Un po' di fornigio Ok 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 un po' di fornigio Manca poco E' meglio Adesso ti chiudo quella bocca che hai Guarda Ecco fatto Facidissimo Ok un po' di fornigio 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 Buon il unterstützen è proprio qui a domandare, che uso dei due a 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 adesso si è potenziato beccati questo ok questa tecnica è tra le più inutili che non fanno da nessuno veramente beh animazione bellissima a 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 che non sarà che non sarà lungo quindi ciao ciao